salve a tutti benvenuti in questo nuovo video della pantera dello svapo oggi andiamo a provare il liquido bank juice ultra violet fusion che sarebbe frutti tropicali adesso andiamo prima ad annusare madonna l'odore proprio di quella frutta ragazzi c'è l'odore e la bomba ma donna buonissimo proprio c'è ragazzi secondo me questo spacca di brutto proprio adesso andiamo a provare sul gun lp ragazzi buonissimo questo veramente buono ti rimane con la bocca bella di frutta c'è frutti tropicali ragazzi è ottimo ragazzi veramente la bank juice ci ha azzeccato con questo liquido perché sa veramente di frutta che ti lascia con la bocca buona proprio c'è spettacolo ragazzi comunque ottimo c'è non posso dire nulla quindi quindi ragazzi ottimo proprio questo questo liquido questo è il mio cane ma saggiare anche i frutti tropicali comunque ragazzi questo liquido si becca un bel nove e mezzo perché è buonissimo molto equilibrato ti lascio quella bocca bella di frutti ragazzi che dire ottimo liquido e ci salutiamo con la svapata ciao a tutti